sta arrivando la sagra di qualità più attesa della Calabria la prologo di Campora San Giovanni è lieta di invitarvi all'undicesimo festival della cipolla rossa di Calabria martedì 13 agosto a partire dalle ore 20 e 30 il menu come sempre sarà molto ricco, gustoso e appetitoso inoltre tanta bella musica con Mauro Trunzo in concerto divertimento, stand e ottima compagnia venite a scoprire il gusto unico della cipolla rossa insieme a tanti altri prodotti tipici calabresi di eccellenza vi aspettiamo martedì 13 agosto dalle ore 20 e 30 in piazza San Francesco a Campora San Giovanni nel comune Diamantea, Cosenza per vivere insieme alla prologo di Campora San Giovanni l'undicesimo festival della cipolla rossa di Calabria saranno presenti le telecamere regionali di Telemia con il format E Estate Se 2024 condotto da Marco Barletta Marc e Francesca Valia Franci non mancate! non siamo fuori su un display e mi manca il respiro se mi balli vicino ora che sei qui è festa totale